Centinaia di strade percorse e molte più parole scritte per raccontarle. In compagnia dello scrittore e giornalista Paolo Rummitz, un viaggio in più tappe per scoprire un paese nascosto sotto gli occhi di tutti. Gli italiani non sanno che c'è. Un percorso lungo il più grande fiume d'Italia, dalle sorgenti al suo tuffo nel Mediterraneo. Cronaca di un viaggio sulle spalle di un gigante che scorre. E' il luogo più centrale, 5-6 regioni. Per i viaggi di Rummitz, il risveglio del fiume segreto. Mercoledì 5 luglio alle 21.10, sulla F.